E' stato pubblicato il bando per l'affidamento del micronido. Sì, dopo aver effettuato i lavori e restituito il nido comunale alla cittadinanza con lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico, il desiderio dell'amministrazione è quello di affiancare un ulteriore servizio che è quello del micronido. Quali caratteristiche avrà? Caratteristiche sono quelle dove l'utenza da parte dei bambini andrà da un'età dai 3 mesi ai 36 mesi e si avrà la possibilità sia di avere il pasto che una merenda mattutina. C'è richiesto un numero minimo per l'attivazione di questo servizio? Sì, il numero minimo è almeno 18 presenze. Per ricevere informazioni? Per ricevere informazioni è l'ufficio delle politiche sociali del Comune di San Salvo.